C'è un fresco e un tempo strepitoso Anche il mio amico Paolo, eccolo qua E questa è la cosa più importante Eh sì, se non lo sarebbe stato bello così il tempo dice Grazie a tutti Grazie a tutti Questo è Paolo che mangia la brioche Ma la mangiocchio 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.